Buongiorno da Milano, subito dopo l'Austria sono stata una mezza giornata a casa con la mia famiglia e poi sono dovuta ripartire e sono qui a Milano perché sono stata invitata da Spido a condurre una lezione di sapioga in Virgin sono state invitate un sacco di giornaliste e di blogger è tardissimo quindi ora devo andare ci vediamo in piscina siamo venute al barcelo hotel per farmi sentire a casa e ora vado in Virgin riderci a a a a a Grazie! Ho appena finito le due sessioni di yoga, di sapi-yoga, hanno già spessato le tavole, comunque l'abbiamo fatto lì. E come vedete su quel cartellone ci sono io, in squat. E lei è Gaia.